Risale l'incidenza settimanale, risalgono i casi di contagio da Covid-19 in Puglia, spinti anche dai tantissimi test effettuati a causa del Green Pass. È la sintesi del bollettino epidemiologico pubblicato come di consueto dalla Regione e che consegna 167 nuovi casi di positività su oltre 21.000 test effettuati. Una persona deceduta si aggiorna il triste conto dei morti a causa del virus sin dall'inizio pandemia 6822. Sono 121 invece i negativizzati, con una cinquantina di attualmente positivi in più rispetto a ieri. Sono infatti 2063 i pugliesi che combattono contro il virus in questo momento. Piccolo incremento anche per quel che riguarda le persone ricoverate. Un paziente in più in area non critica, 132 in totale, 2 in più in terapia intensiva, 19 al momento. In provincia di Taranto il maggior numero di nuovi casi oggi, con 39, seguono Bari a 37, Foggia a 35. La provincia di Lecce segna 20 nuovi casi, brindisi 19, la VAT 14. Risale, come detto, seppur di poco l'incidenza settimanale di casi, che torna in Puglia con il segno più dopo diverse settimane in discesa. Si attesta al momento attorno ai 20 casi ogni 100.000 abitanti, un numero ancora molto basso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'aumento dei casi va però di pari passo con l'importante aumento anche di test giornalieri. Da circa una settimana a questa parte, a causa dell'entrata in vigore per tutti i lavoratori dell'obbligo di Green Pass.